Flavio Nogara è fuori dal Consiglio regionale, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni. Questa mattina il Parlamento Lombardo, con 47 voti favorevoli, 29 contrari e un astenuto, si è pronunciato a favore dell'annullamento dell'elezione del leghista, già componente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie Nord SPA, società appartenente al sistema regionale. Secondo quanto contestato dalla Giunta delle elezioni, sono da considerarsi ineleggibili componenti esecutivi degli organi di gestione o di amministrazione, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di fondazioni costituite o partecipate dalla Regione oppure destinatari di contributi regionali diretti o indiretti. Flavio Nogara, dopo il voto di oggi e pertanto a tutti gli effetti decaduto dalla carica di consigliere regionale, gli subenterrà in occasione della prossima seduta di Consiglio Antonello Formenti, primo dei non eletti della Lega Alecco e già consigliere regionale la scorsa legislatura. Abbiamo lavorato dimostrando sempre un grande rispetto e senso istituzionale, senza alcun condizionamento di natura politica, sottolinea la Presidente della Giunta delle elezioni Elisabetta Strada. Siamo dispiaciuti per la posizione che abbiamo dovuto assumere nei confronti di Nogara, ma a imporcela è la normativa vigente. Colgo pertanto l'occasione per formulare un invito alla Commissione Affari Istituzionali affinché approfondisca quanto prima il tema delle incompatibilità, valutando l'opportunità e la possibilità di modificare alcuni aspetti regolamentari che ritengo essere particolarmente rigidi e penalizzanti.